buongiorno nel nostro canale associazione paese delle donne oggi continuiamo il discorso sulla casa internazionale delle donne di trieste e ospitiamo due associazioni che sono il comitato per i diritti civili delle prostitute e per il comitato via covere e l'associazione l'una e l'altra che appunto tra le fondatrici e referenti principali ea giorgi questi due con loro cominceremo questo discorso molto veloce però approfondito che parlerà sia delle loro origini di come nascono queste due queste due associazioni e sia come interagiscono nella casa tra di loro e con il territorio a tutte e due naturalmente riserveremo poi uno spazio di approfondimento nella nostra playlist e profili perché come ascolterete e seguirete e ringraziando chi vorrà seguirci la materia è tanta e le storie sono diverse e appassionanti cominciamo dal comitato con via covere come nasce questo comitato e quale attività principalmente svolge in questo momento beh buongiorno grazie per darci questo spazio ovviamente in questo momento noi siamo nate nel 1982 potete immaginare che negli anni ci sono stati cambiamenti di ogni tipo diciamo nella nella realtà quotidiana e pertanto abbiamo affrontato svariate emergenze e abbiamo implementato progetti differenti a seconda dei momenti storici attualmente noi siamo abbiamo la nostra sede legale all'interno della casa internazionale delle donne questo devo dire è una cosa di cui andiamo molto orgogliose credo sia l'unico caso al mondo che una casa internazionale delle donne ospita al suo interno ed è stata e noi siamo state costituenti di questa di questa casa della sua fondazione un'associazione di lavoratrici del sesso questo guidata da lavoratrici del sesso è un caso unico credo al mondo in questo momento lì dentro noi possiamo usufruire di spazi e di collegamenti di essere in rete dentro all'interno di con le altre associazioni in un programma soprattutto di programma di gestione i progetti per donne giovani donne e transgender vittime di tratta della tratta di esseri umani noi da alcuni anni abbiamo questo da vent'anni in questo momento abbiamo questo progetto contro la tratta il capofila attualmente è la regione friuli venezia giulia e l'ente finanziatore oltre alla friuli venezia giulia è il dipartimento per le pari opportunità presso il consiglio dei ministri lì dentro possiamo sfruttare diciamo al meglio le sinergie che si costruiscono tipicamente all'interno di una casa internazionale delle donne quindi abbiamo per esempio la fortuna di avere dei corsi di italiano per la cui le nostre utenti possono partecipare e che sono la base di programmi come dire di integrazione sociale perché senza conoscere la lingua non sarebbe difficile ma facciamo anche molte altre attività di tipo culturale partecipiamo alle attività della della casa che vengono fatte come iniziative presentazioni dibattiti e cose così quindi uno spazio per noi importante perché uno spazio vitale che viviamo quotidianamente noi e le nostre utenti le tante donne migranti che transitano nel nostro progetto questa iniziativa del comitato è molto interessante e appunto meriterebbe di una parola in più su come sia nato proprio all'origine di questo discorso cos'è che essendo appunto un'esperienza unica al mondo come di ottobre giustamente sottolinea come è nato il parterre dal quale si è costituito questo comitato ma il comitato nasce nell'82 ed era espressione in quel momento di una lotta contro la repressione di polizia e soprattutto anche contro diciamo gesti di violenza da parte di alcuni militari americani che stavano qui nella nostra zona e quindi da questo insomma emerse il bisogno di protestare e di fare qualcosa poi negli anni sono ci sono succedute molte cose le nostre sedi sono state anche altrove nel 2000 siamo sbarcati a trieste se così si può dire perché il uno appunto nasceva nel 2000 con i primi finanziamenti ad hoc per la questione del problema del tratto di esseri umani e noi quindi noi siamo andate a fondare un progetto di questo tipo proprio a trieste pordenone era la nostra città d'origine diciamo quindi avevamo un progetto pordenone ma soprattutto trieste che era la capitale regionale per noi quindi e da lì abbiamo cominciato con la rete delle associazioni perché ovviamente noi abbiamo sempre collaborato abbiamo sempre come dire fatto parte di reti di altre associazioni delle associazioni lgbt plus eccetera ma anche associazioni di donne e di centri sociali insomma quello che erano i nostri supporti per poter essere visibili e operare in una società complessa ovviamente dove i fenomeni i problemi sono vari a trieste abbiamo incontrato alcune donne come appunto l'associazione luna e l'altra e le sue attiviste o altri del settore dell'area basaliana ad esempio altri gruppi dei cooperative di basaglia per intenderci e con questa rete in questo in quel contesto e ci è nata l'idea che forse avremmo potuto mettere insieme le nostre alcune nostre risorse competenze eccetera e che ci sarebbe piaciuto proprio perché città multietnica dove transitano tantissime donne straniere e poi c'erano stati ovviamente le rivolte le guerre della nella ex iugoslavia insomma tante cose che ci hanno spinto a fare qualcosa come le altre è una città molto particolare e io credo che abbia dei pregi le donne sono c'è storicamente le femmine la parte femminile a trieste è molto più avanzata l'emancipazione direi il senso della libertà dell'autonomia è molto più spinto che in altre città e quindi è stato naturale che alcune di noi un giorno si sono trovate al bar a prendere il caffè nero come si usa dire trieste prendendo il nero abbiamo detto ma perché non pensiamo a fare una casa internazionale delle donne una situazione un luogo per tutte queste associazioni che ci vogliono stare e così è nata l'idea poi hanno lavorato molto compagni ovviamente più competenti più bravi di noi fra l'altro noi come prostitute facevamo altre cose magari ma è nata lì insomma l'idea nel 2000 e poi può ricordare benissimo quando poi fare la casa più fondata e di cui noi appunto abbiamo fatto parte sempre è stato un'esperienza credo che andrà ricordata proprio perché in questi anni questi 20 anni le cose sono anche cambiate in italia e questa cosa davvero è unica per questo dobbiamo esserne orgogliose allora in questo breve spazio di cui appunto come anticipato faremo approfondimenti perché e questo è semplicemente una vetrina un ventaglio sulle presenze e appunto una messa al centro di tematiche un'ultima domanda sull'attualità cosa state seguendo in questo momento come rete internazionali ma noi facciamo parte di una piattaforma italiana che è importante che è la piattaforma antitratta di cui fanno parte un bel gruppo quasi un centinaio di associazioni e dove si discutono tutte le le problematiche sulla questione appunto delle leggi che riguardano il traffico di esseri umani l'immigrazione l'accoglienza eccetera quindi facciamo capo poi in questa rete al numero verde antitratta che è 800 290 290 il numero è nazionale ed è un punto di riferimento che tiene insieme questo su con questa rete ad esempio dal lockdown per l'emergenza covid noi abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding perché ovviamente l'emergenza ha colpito moltissimo alcune delle delle compagnie delle colleghe che fanno che sono attive ancora nel lavoro sessuale e quindi questa questa rete ci ha aiutato molto a dare un sostegno in varie città d'italia alle persone che ne avevano bisogno e l'altra parte invece quella internazionale facciamo parte di due reti uno è CRC che è la rete del sex worker un'associazione un'organizzazione di associazioni in Europa e l'altra è Tampet Network che storicamente di cui siamo fondatrici anche è sempre una rete fondata fatta di 23 rappresentate 23 paesi in Europa fatta di associazioni di sex worker e anche di alleati non sex worker con questa rete ultima questo di Tampet abbiamo fatto un documento ma dico questo è l'ultimo perché di dieci giorni fa ma ne abbiamo fatti in questi due anni di lockdown e crisi ne abbiamo fatti parecchi di anche soltanto italiani volendo ma anche di europei proprio per fare per stimolare la sensibilità dei poli delle forze politiche che non affrontano in modo energico concreto i bisogni che sono nati in questa emergenza ma che sono non sono nati in questa emergenza che sono i bisogni anche storicamente ci stiamo trascinando come come sex worker come gruppo che viene spesso discriminato non viene considerato leggi parliamo soprattutto di persone che abbiamo un numero di persone migranti che lavorano nell'ambito del lavoro del sesso che è la maggioranza e sappiamo che quelle persone sono spesso messe al bando discriminate senza documenti non legalmente riconosciute quindi questo significa mancanza di tutto mancanza di assistenza sociale mancanza di servizi mancanza di permessi di soggiorno vite vite al limite della clandestinità se non proprio nella clandestinità e quindi questa cosa andrebbe risolta con delle leggi quantomeno che diano la possibilità di un concreto accesso per esempio alla tutela della salute che non è così scontato che in europa venga ovunque e a volte neanche in italia anche se sta scritto sulle carte e che per esempio appunto le persone possano soggiornare legalmente senza doversi rivolgere a reti di iraq e traficanti per poter ottenere diciamo la possibilità di di vivere in questo paese perché quello significa sfruttamento e significa ricatto per cui facciamo appelli di di vario tipo che sono un genere questi quindi con tamper network e la rivendicazione del lavoro una rivendicazione ma finanza una rivendicazione di diritti di diritti di diritti anche di una riforma legislativa della legislazione in corso ma una guarda scusa no sulla legislazione in corso potremmo discuterne io credo che ci sia qualcosa di fondamentale eh che vada riconosciuto ed è il diritto eh i diritti eh i diritti lavorativi alle persone non è una questione di fare una riforma di come vorremmo cioè sul piatto ci sono troppi eh troppi discorsi che sono fantasie più che che con tre cose concrete io credo che riconoscere che una persona migrante che viene in questo paese per lavorare eh e quindi essere che il suo permesso di soggiorno eh sia riconosciuto anche per la ricerca di un lavoro o per un lavoro autonomo cosa che non è così e non è scontato e questo riguarda tutti i lavori quindi la la il problema è fondamentalmente la legge sull'immigrazione che produce persone escluse e clandestine per quanto riguarda il lavoro sessuale il riconoscimento che questo questo questa forma di reddito questa forma di produrre il proprio reddito per la sopravvivenza e questo sia riconosciuto come lavoro che non vuol dire niente di tutto quello che pensano aprire bordelli non aprire bordelli c'entra proprio niente di conoscere che questo è un lavoro e che quindi quel reddito di sopra che ti dà il modo di sopravvivere venga riconosciuto come lecito e legale questo è questo sarebbe fondamentale ed importante. Mi sembra che questo sia il focus della questione ed è anche naturalmente la parte principale dei documenti portati avanti e filmati dal comitato, proposti dal comitato e naturalmente condivisi da tutta una serie di associazioni in rete che sono vicine al comitato similari eh come anticipato eh purtroppo questo spazio eh è una piccola vitrina ma torneremo eh nella nostra playlist dei profili a dedicare uno spazio un pochino più grande e più approfondito a quelle che sono le proposte del comitato e come questo comitato si muove nell'orizzonte nazionale e internazionale eh partendo dalla casa internazionale delle donne di film. Quindi ringraziamo qui a covere e passiamo a te e a Giorgi dell'associazione l'una e l'altra eh la quale associazione anche da sola merita molto ma molto più attenzione di quella che gli possiamo dare ora ma sono appunto anticipati a discorsi che arriveranno dopo. Il mh per quello che ci riguarda eh la cosa importante in questo momento è capire eh dove e come e perché opera l'associazione l'una e l'altra perché nell'enorme panorama va legato dell'associazionismo femminista eh che non è soltanto un associazionismo formale e anche un associazionismo di movimento eh cooperativo informale e via dicendo eh le peculiarità della nascita, della crescita e della proposta politica sono appunto molte e differenti. Allora chiediamo subito a te e a Giorgi perché nasce l'una e l'altra e come si connota nell'orizzonte stellato dell'associazionismo femminista eh con la sua proposta. Buongiorno, l'una e l'altra nasce più di trent'anni fa nell'ottobre del millenovecentonovanta dall'esigenza di donne che si ritrovavano all'interno del parco di San Giovanni a Trieste nell'humus della rivoluzione basaliana che riguardava la chiusura dei manicomi. Donne di varia provenienza erano operatrici, psichiatri, psicologhe ma non solo, moltissime infermiere, volontarie e donne definite come me donne della città che si erano avvicinate a quell'esperienza e tutte lavorando assieme abbiamo ritenuto che fosse necessario occuparsi in modo particolare della sofferenza delle donne perché all'epoca di medicina di genere non parlava nessuno e sappiamo che tuttora non è un tema molto praticato mentre noi rivendichiamo questa nascita e questa attività trentennale nel campo per cui abbiamo pensato che fondando un'associazione avremmo potuto aiutare le donne che si avvicinavano ai servizi di salute mentale ormai decentrati sul territorio per esempio con attività di benessere tipo medicina dolce, massaggi, anche il parrucchiere, l'essere più curate, usare i fiori di barco o così via a superare meglio dei momenti di difficoltà poi sono venuti corsi, laboratori, teatro, video, foto, formazione sia per le donne che avrebbero voluto trovare un lavoro sia per le stesse operatrici e via via convegni, laboratori di scrittura creativa dal teatro è nato un gruppo di teatro che si chiama l'una e l'altra teatro però è autonomo e che però noi proponiamo per esempio agli enti pubblici per portare spettacoli contro la violenza sulle donne alle scuole per dire attività tantissime anche pubblicazioni e libri che queste attività documentano perché abbiamo questa particolarità di volerci anche storicizzare e ricordare quello che facciamo quindi voi avete anche una casa editrice? la casa editrice della casa internazionale delle donne all'interno della casa è nata ma noi ci teniamo molto tanto è vero che con il gruppo delle voci dell'una e l'altra che leggono da dieci anni abbiamo anche un gruppo di lettura perché anche la lettura fa molto bene per stare insieme per stare insieme incontrarsi ogni settimana con un gruppo di lettura poi andiamo anche a presentare i libri della casa editrice leggendo con le nostre voci lo faremo anche domani delle poesie all'interno della presentazione di libri comunque il nostro lavoro essendo stato molto in rete con le altre associazioni appunto non solo con quelle con le quali abbiamo fatto la casa abbiamo una quantità di partenariati negli anni abbiamo fatto progetti europei con gruppi e associazioni di tutti i paesi dell'ex Yugoslavia siamo molto disponibili al lavoro in rete qual è una delle caratteristiche che appunto operando a Trieste città di confine città di frontiera se si potrebbe dire questa parola plurietnica plurieligiosa qual è una delle difficoltà principali che affronta la vostra associazione e nel portare avanti la vostra proposta ma in difficoltà non non ne vedo diciamo che non è facile come non lo è per nessuno ma il fatto di essere città di confine di avere donne che arrivano da tutte le parti del mondo e che interagiscono con noi è in realtà una ricchezza e questo lo dimostra la casa internazionale delle donne con tutti i corsi laboratori e gli incontri che riteniamo e ci sono tenuti negli anni quindi per noi è una ricchezza il fatto di essere donne di provenienze diverse ma all'origine siccome le nascite di questi gruppi che poi in parte sono diventate associazioni in parte sono diventati comitati in parte si sono anche svuotati e sono finiti come l'eliteo insomma non tutto quello che nasce vive e produce all'origine della vostra esperienza che tipo di formazione c'era che tipo di partecipazione attiva politica c'era tra le donne fondatrici tra le donne fondatrici veniamo per la maggior parte del femminismo e da una formazione politica che rivendica l'empowerment delle donne e l'aiuto reciproco, l'auto aiuto, l'autostima per portare avanti assieme dei progetti questo sicuramente in uno e l'altro non si è perso noi continuiamo a fare per esempio un'assemblea ogni inizio mese che io rivendico sia un'assemblea di tipo basaliano perché tutti abbiamo e tutte hanno diritto di parola dall'operatrice dell'azienda sanitaria con la quale abbiamo una convenzione perché gestiamo anche degli appartamenti dove appunto facciamo attività ma dove anche donne che ne hanno bisogno trovano accoglienza e proprio possono soggiornare per dei periodi per allontanarsi da situazioni difficili oppure perché in qualche caso escono da situazioni come il carcere e anche questo abbiamo supportato donne alla fine di un percorso carcerario per aiutarle fino ad arrivare ad un vivere autonomo, indipendente. Diciamo la libertà delle donne resta il nostro obiettivo. Quali sono le attività che vi proponete di continuare o di rinnovare in futuro? Continuiamo pervicacemente a cercare di stare in reti e partenariati per partecipare a bambi di vario tipo che siano nazionali, regionali, sempre con progetti che possano essere utili. Uno che si è appena concluso e che si chiama Da me a noi, fatto appunto anche con la Casa delle Donne e con altre associazioni di altre tipologie cittadine e ho voluto accompagnare donne anche con momenti difficili a riacquistare fiducia in se stesse ad affrontare una situazione che non è facile per nessuno in questo momento e che da sole è molto più difficile superare naturalmente. E una curiosità su questo bel nome dell'associazione l'una e l'altra. Chiudiamo con questo pensiero. Com'è la scelta di questo nome? Ma sempre da grandi discussioni collettive, come sempre succede, a un certo punto si parlava dell'una che è una donna di un certo tipo e l'altra che magari è una che ha più difficoltà, l'una con l'apostrofo è diventata la luna e così via come il ristorante della Casa delle Donne di Roma praticamente, l'una e l'altra. E' un gioco di parole che si presta moltissimo anche a linguaggi poetici, ecco, oltre che a linguaggi politici, ecco, perché insomma il rapporto con la luna se ne potrebbe parlare. Il rapporto con la luna lo rinascichiamo come il diritto di essere lunatiche anche. Questo mi sembra perfetto, questo diritto di essere lunatiche, se permetti me lo prenderò, me lo spenderò altre volte. Allora, io intanto chiudo qui questo punto, questa parentesi che più oltre non è e però dando appunto appuntamento a chi ci vuole seguire ai prossimi approfondimenti che faremo sulla Casa Internazionale delle Donne di Trieste e ringrazio vivamente sia Tia Covre del Comitato per i diritti civili delle prostitute e sia Tia Giorgi dell'associazione l'una e l'altra. A tutti voi e a tutti voi che ci seguite, un ringraziamento da parte nostra. Arrivederci. Ciao, grazie per essere da una, grazie di esserci. Grazie, ciao. Io sia voi. Grazie. Grazie.